Tu hai visto la possibile scomparsa della tua amica come un'opportunità per guardarmi in azione e poterlo scrivere, non è così? E in tutta onestà è stata una mossa furba. No, non sono qui per questo. D'accordo, va bene, va bene. Ti faccio un'offerta. Sono un uomo di parola e Dylan può confermare. È un uomo di parola. Ti concederò di osservare il prossimo caso. Per esempio, sua moglie. Dylan. Finché morte non ci separi. Ti dispiace? Ti concederò di osservare il prossimo caso e anche di pubblicarlo, ma a una condizione. Beh, quale? Non accetterò il caso della tua amica scomparsa, Janice. E non voglio sentirti parlare mai più di lei. Perché? Ha consenti? Ha già un altro caso? Glielo sottopongono oggi. Oggi? Oggi, sì. Hai la mia parola. Puoi assistere al mio prossimo caso. Puoi scrivere ogni parola che vuoi in merito. Puoi anche definirmi il detective del braccio della morte. Non ti fermerò. Ma solo, solo, a questa condizione vincolante che non si parli più della tua amica scomparsa. Neanche una parola. È un test per vedere se tradirò la mia amica. Lo farai?